Ehi, buongiorno! Che si fa? Ciao! Oi, ciao! Sto mandando gli auguri di Natale, ma tra tutti i social non è semplice, non finisco mai. Guardate che figo questo post che ho condiviso. No, guardate questo, è fortissimo, soltanto che mandare gli auguri a tutti, uno stress. Sì, davvero, uno stress. Ci vorrebbe qualcosa, un'app per condividere gli auguri con tutti. Sì, guarda, ce l'ho io l'app giusta per voi. Veramente? E si può installare? Ma più che installare direi condividere. Dai, andiamo, andiamo! Cioè, io non capisco, come fai ad avere un'app che mette insieme tutti i social? Perché fare gli auguri a tutti, wow, è bellissimo. Certo, mancheranno un po' i baci e gli abbracci, ma vabbè. Guarda, l'app che vi dico io prevede anche i baci e gli abbracci. Ma come fai? Finite, seguite, vi mostro. Ecco, questa è la mia app. Apparecchiamo la tavola e qui c'è Facebook. Di qua c'è Twitter. Lì c'è Instagram. E infine, qua giù in fondo c'è LinkedIn. Quest'anno, a Natale, condividiamo la realtà di un abbraccio, di una carezza, di un sorriso. Gli auguri più belli sono quelli reali. Buon gesto, Mauro Mercano! Grazie! 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 Grazie!